Allora, che traccia hai scelto innanzitutto per questa prima prova dell'esame di maturità 2019? Io ho scelto la tipologia C, ovvero il test argomentativo, la proposta era la C2, che trattava l'argomento sport e storia, ovvero era un mix che parlava della seconda guerra mondiale e dovevi abbinare comunque eventi passati relativi allo sport e alla storia, che si collegavano tra loro, quindi una sorta di rapporto tra le due materie. E in pratica si parlava anche di Gino Bartoli, della figura di Gino Bartoli giusto tra le nazioni? Il ciclista Gino Bartoli comunque che, come ricordiamo, ha vinto un Tour de France nel 1948 e quindi il Miur comunque ci ha fatto ricordare che lui è comunque stato una sorta di salvezza, una sorta di eroe per il popolo ebreo, comunque ha salvato molte vite dalla deportazione quando erano braccati dai fascisti. Come ti chiami e che classe fai? Andrea Montuoro e faccio il quinto musicale. Cosa ti aspetti dalle prossime prove, soprattutto dall'orale? Quest'anno c'è la grande novità delle buste, avrete sicuramente effettuato delle simulazioni in classe con i compagni di professori prima di arrivare a questo importante appuntamento? Sì, abbiamo effettuato molte simulazioni, purtroppo quest'anno è cambiato la tipologia dell'esame e quindi ci aspettiamo un bel esame tosto perché comunque non avremo la tesina come negli anni passati, bensì ci dovremmo collegare a un argomento a seconda di quello che ci esce dalla busta. Dopo questa prima prova come ti senti? Soddisfatto? Sono contento, sono soddisfatto di quello che è uscito da questa prima prova. La seconda penso andrà meglio e poi l'orale si vedrà. Delle prossime prove, innanzitutto dell'eliminazione della terza prova di questo quizzone e soprattutto della grande novità di quest'anno dell'orale con le buste. Certamente senza il quizzone forse ci hanno dato una mano, però dall'altra forse il quizzone l'hanno implementato nelle buste come livello di difficoltà, però ovviamente credo che studiando si può affrontare tutte le varie prove, sia la seconda prova che ci aspettano domani e poi l'orale.